L'EASA è l'Agenzia europea per la sicurezza del volo. Qual è il ruolo dell'ENAC in questo consesso internazionale? L'ENAC partecipa a tutti i livelli della governance dell'EASA, in particolare il direttore generale Alessio Quaranta è membro del Management Board, io sono il suo alternato. Inoltre noi partecipiamo a quasi tutti i gruppi di lavoro che l'EASA ha in attività su tutti gli aspetti di carattere regolamentare e anche della standardizzazione. Ingegner Marasà, la semplificazione regolamentare del settore dell'aviazione generale ha rappresentato il focus della conferenza EASA. Quali gli scenari di sviluppo? Il tema della conferenza è molto preciso. L'aviazione generale soffre oggi di una overregolamentazione, overregulation in inglese, che è dovuta al fatto che nel tempo l'aviazione generale è stata considerata un po' come la figlia povera dell'aviazione commerciale, pur avendo le stesse regole. Oggi la tendenza è invece diversa, cercare di semplificare al massimo l'attività regolamentare sull'aviazione generale, consentendo una maggiore flessibilità a tutto vantaggio dell'aviazione generale, in termini di possibilità per tutti quelli che amano il volo, di svolgere un'attività regolata in maniera più semplice, pur mantenendo le condizioni di sicurezza adeguate allo scopo. Ci può indicare ora la tipologia dei mezzi aerei che rientrano nella definizione di aviazione generale? Come dicevo l'aviazione generale è un mondo complesso, si parte dalla parte più alta che è quella dell'aviazione di business, quindi praticamente i velivoli utilizzati per il trasporto di persone su rotte anche intercontinentali, con aerei complessi, quali sono i Falcon, i Gulfstream eccetera, per arrivare anche ai velivoli più semplici, quelli del pilota privato che lo fa per sport o per piacere, i voli privati. Nel mezzo c'è anche il lavoro aereo con tutta la sua serie di attività e per ultimo ci sono anche gli ultralight, i microlight, tutti quegli apparecchi che in Italia per esempio non fanno parte dell'attività di regolamentazione dell'ENAC, ma che sono in un forte sviluppo dovuto anche al fatto che proprio per loro le regole sono più semplici ormai da diversi anni. Ingenier Marasà, per concludere, a proposito di mezzi aerei a pilotaggio remoto, i cosiddetti APR, che costituiscono il futuro per le moltiplicità del loro impiego, quali i temi trattati? In effetti l'ultimo aggregato dell'aviazione generale sono gli APR, cioè i velivoli a pilotaggio remoto, che stanno avendo uno sviluppo tumultuoso anche in Italia, proprio per la particolare tipologia di applicazioni che possono svolgere al posto di altri sistemi che sono sicuramente più complessi e in qualche caso anche più costosi. La conferenza in un panel dedicato si occupa in particolare di questi mezzi, cercando di capire quale può essere il tipo di regolamentazione adatta ai velivoli senza pilota. È ovvio che i mezzi a pilotaggio remoto non sono giocattoli, una cosa è parlare di aeromodelli e quelli in effetti hanno una loro deregolamentazione di fatto e di diritto. Quando invece parliamo di mezzi aereo a pilotaggio remoto, soprattutto quelli che vengono impiegati in luoghi frequentati da persone, su ambienti di carattere industriale, in ogni caso in zone che noi chiamiamo congestionate, lì è importante che ci sia una regolamentazione adeguata per evitare un uso indiscriminato e senza le prescritte condizioni di sicurezza. In questo senso l'Enac nel suo regolamento, emesso ormai da quasi un anno, ha cercato di coinvolgere non solo le piccole entità ma anche i grandi utilizzatori per fare in modo che ci sia la coscienza da parte di tutti che l'utilizzo dell'APR va sviluppato e va seguito lo sviluppo in maniera ordinata in modo che le condizioni di sicurezza per tutti, sia per quelli che li operano che per le persone che sono in qualche modo coinvolte nel loro utilizzo sia garantito al massimo.